Il risultato non è mai stato in dubbio. Che partita si è giocata oggi, Luca? Questa squadra dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Grazie, Luca, per il tuo prezioso contributo. Grazie. E un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Grazie. 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 Grazie.